bentornati e benvenuti qua ragazzi in questo nuovo gameplay come sempre prima di iniziare il gameplay ti ricordo che già in descrizione se vuoi puoi acquistare questo e tanti altri giochi scontati in descrizione in più ti ricordo i miei canali social e quant'altro detto questo ragazzi siamo ritornati qua su farming 22 sulla mappa ravenport che trovate anche per console per pc detto questo oggi sono con il volante e oggi facciamo anche un paio di acquisti quindi come sempre vado qui vado a prendermi una trebbia eccola qua raccoglitore andiamo a scegliere un po che trebbia prendere io prenderei ragazzi però prenderei prenderei mi sa che non ce la facciamo prendere questa però dai facciamo un debito e la prendiamo chi se ne prende dai allora chiedi poi lo restituisco il debito quindi no problem facciamo che 300 mila euro dovrebbero bastare ok 304 dovrebbero bastare come prendere una lama e una trebbia 35 34 400 357 madonna ancora debito dobbiamo fare vai chiedi 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 facciamo debito più alto che possiamo fare eccolo qua 460 mila euro di debito fatto quindi andiamo prenderci una trebbia ci prendiamo anche a sto punto la cr10 90 eccola qua quindi al via motore vediamo madonna tanta roba scegli fotocamera vediamo da dentro così non ci perdiamo già troppo in chiacchiere ok però ovviamente me lo faccio spawnare qui perché sennò poi chissà dove me la spawna sto coso quindi cr10 90 eccola qua quindi compra ok e ovviamente dobbiamo scegliere la combinazione di lame che prenderei questa qua da 80 mila euro che mannaggia non ce la facciamo porca vacca non ce la facciamo non ce la facciamo no quindi chiedi 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 ah non possiamo più ah no possiamo chiedere ok 90 100 ok va bene così quindi cr10 90 che sta qua giù eccola qua combinazioni con il suo carrellino da 80 mila euro vai compra perché almeno questo già l'abbiamo vista comunque e l'abbiamo anche già approvata però almeno adesso è nostra quindi senza altro parteci in chiacchiere ma tanto sapete che il debito io lo ripago sempre perché non cammino ok andiamo a trebbiare con il volante tanta roba così almeno ce l'ho già pronto per dopo perché dopo questo video io c'ho una live che probabilmente vedrete come strato video insomma adesso vediamo allora adesso non mi aggancio qui vai perfetto ancora un po indietro perfetto un po più avanti no 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 perfetto che non mi attacca che succede ok attacca perfetto andiamo subito sul campo ovviamente cambiamo anche visuale perfetto una trebbia tutta nostra finalmente non ne potevo più di noleggiare la roba ma tanto ci ripaghiamo i debiti come sempre sapete ormai che i debiti li pago quasi tutti su tutte le serie ok adesso ovviamente vorrei farci anche una copertina in diretta sì dai ce la faccio adesso anche se volevo prendere un altro mezzo ma lo prendiamo poi la prossima puntata su un'altra serie magari su un'altra mappa adesso vediamo un attimino cosa riesco a organizzare ok vai ok perfetto ok vai andiamo avanti ok sganciami il cosino così mi giro qua almeno qui non faccio danni forse vado anche un po più realistico è un po mouse è un po tastiere c'è un po mouse un po volante per la visuale ok perché non mi aggancio non mi aggancio non mi aggancio aggancio eccolo lì tacata dispiega dispiega la lama eccolo ok dispieghiamo ovviamente anche la trebbia perfetto accendiamo anche i fari ok adesso ovviamente ci mettiamo in posizione operativa e direi che facciamo subito questa lavorazione vai perfetto un po più avanti vai allora bassa accendi buona e vai che la citrincia raga va là che bello va là che spettacolo anche un po in prima ecco la con la visuale di prima ecco la qua una donna che spettacolo con il volante ragazzi tanta tanta roba abbiamo due due campi da trebbiare con questo bello grande quindi ho scelto questa trebbia per l'appunto per facilitarmi intanto sbagliato 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 ok passiamo anche al visuale interna ok ne fa di sound sta trebbia raga fa ne fa ne fa di sound una trebbia tutta nostra finalmente così poi ci ripaghiamo il debito è morta lì non ci facciamo più nessun problema e tanto lo porterò in live su twitch o questa serie per portarmi un po avanti con i miei lavori come ho fatto sulla land of Italy che anche lì sto andando parecchio avanti ovviamente andiamo un po di retro ok se sentite rumore di pedali è tutto normale ragazzi ovviamente qua c'è l'albero che poi quest'albero mi sa che sparirà perché eccolo qua devo usare un po la tastiera perché non mi ricordo i tasti del volante essendo che lo uso è relativamente solo per eurotrack e quindi faccio un po di fatica a ricordarmi tutti i tasti dovrei aprire l'f1 ma è brutto da vedere quindi insomma vabbè abbiamo finito vediamo se questo tasto è questo lb r3 eccolo qua questo r3 la bisogna in tara ok ci siamo vai che la si trincia va la che bello anche in prima persona con il volante tanta roba tanta tanta roba facciamo un bel po di colza volevo prendermi anche un altro mezzo ma lo prenderemo nella successiva puntata che sicuramente faremo più contenuto ovviamente in questa questa puntata ci occuperemo di attreviare per l'appunto i terreni ok non mi ricordo più il tasto eccolo qua è molto più facile da mouse e tastiera raga però insomma ovviamente proviamo anche il volante se no eh che me l'hanno dato fa così giusto per ovviamente 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 raga comunque le feste sono quasi finite c'è solo il 25 aprile come festa che ovviamente non ci saranno video non ci saranno live non ci saranno niente ovviamente perché è festa anche per me ok passiamo anche da visuale interna mi avvicino un po il microfono anche se non so dove metterlo perché c'ho la scrivania talmente tanto piccola che dovrebbe arrivare un'altra spero almeno mi auguro ecco forse così adesso mi dovreste sentire meglio ma anche prima in teoria casomai poi ovviamente mi alzo da editing ovviamente ok vediamo un po se ce la facciamo fare questa lavorazione la cr1090 tanta roba tanta tanta roba ok vai vai gira 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 ok andiamo anche un po realisticotti più o meno dai realisticotti insomma eh ah gli ho lasciato uno sputacchio hashtag sputacchio ok mi raccomando commentate se volete commentare che tanto gli commenti li leggo quasi tutti vi metto sempre al cuoricino significa che ho apprezzato questo commentino e ho fatto anche la rima con panino vabbè battute del kaiser hashtag kaiser intanto la produzione di nick sta andando avanti ovviamente abbiamo poca paglia per farla continuare ad andare avanti però dobbiamo occuparci anche della paglia adesso sicuramente la faremo ma sul campo ragazzi la lama può andare lo stesso basso penso di sì no? su campo almeno su strada ovviamente no ma sul campo penso di sì casomai ecco ditemi questo in commenti ragazzi ditemelo ditemelo che sono proprio curioso eventualmente mi guarderò qualche video di agricoltura reale come panno tre viare però penso che sul campo non ci siano problemi perchè alla fine non roviniamo niente anche se ovviamente è un gioco di simulazione non è la realtà però ovviamente simuliamo anche un po' la realtà altrimenti non si chiamerebbe farming eh si chiamerebbe simulator reale eh o no? penso che ogni manovra va alzata comunque la lama io penso di sì penso di sì che ogni manovra che facciamo la lama vada alzata tipo in questo caso che la previa non sta a fa niente l'alziamo eccola qua e adesso frena madonna una migliaia di euro per master qui qua eh che scherziamo poi ci faremo anche l'olio di colze raga almeno per la prima volta facciamo anche l'olio se capisco un attimino come funziona e tante colze tanta roba ok ok vai stoppala eccola lì accendi vai scarica lo scarichiamo direttamente ahia nel silos intanto mi sono fatto male con il microfono vabbè dettagli salutiamo il microfono che ci segue sempre eh? ok non lo so qualcosa ho detto eccolo lì scarichiamo tutto adesso facciamo anche l'altro terreno poi devo concludere il gameplay che vedo che purtroppo il tempo è tiranno quindi hashtag tiranno 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 vai scarica tutto ok dovrebbero aumentare la velocità di scarico delle trebbie almeno essere opzionabile tipo se lo vuoi più veloce o meno veloce oppure con una mod magari per farlo mettere più o meno veloce dopo magari mi sbaglierò no ma intanto ovviamente io l'ho proposto come idea per i futuri modders hashtag modders allora vai abbassa accendi vai e io vi aspetto domani ragazzi con il classico appuntamento del della mappa di test che porterò domani quindi vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti attivare le notifiche se non le avete ancora attive perchè youtube manda e non manda le notifiche qua la paglia me la fa da qua vabbè fa niente ok volevo che me la facesse dall'inizio ma forse sbagliato tasto e non c'è problema ok l'ultima passata la facciamo in campo view quindi prima persona ok va in stop aspettiamo che finisca qui di scaricare intanto mi passo già in prima persona andiamo perfetto dai è difficile anche fare le manovre in prima persona ragazzi non è facile non è facile perchè ce l'ho grosso ce l'ho grosso il pipino eh cioè la previa vabbè ci dissociamo hashtag mi dissocio hashtag proprio ci dissociamo l'ho presa tutte si a voglia perfetto ottimo ottimo spero che il gameplay sia stato di vostro gradimento purtroppo non abbiamo fatto nulla di entusiasmante ma almeno abbiamo preso una previa tutta nostra e ovviamente tutta bella grande così abbiamo posto anche per altre missioni e così via insomma ce l'abbiamo per sempre almeno finchè non cambio serie ecco insomma dopo lì sarà un'altra parte non si dice non si dice ok lì sta scaricando ok perfetto vai gira 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 va fatta così la lavorazione in teoria no che io sappia quindi così piano piano acceleriamo un po' se non può fare nike che vedo che già il tempo sta super volando via quindi mi devo un po' accelerare un po' i tempi parto da qua poi raccoglierò la strisciata lì che purtroppo ce l'ho andata un po' largo ecco adesso forse ci siamo e lì la strisciata mi resta sempre vabbè mannaggia mannaia mannaia la pupaia mannaia 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 eh qualcosa devo dire eh insomma non lo so ragazzi hashtag non lo so allora vai andiamo fino in cima perfetto ok scarichiamo qui la roba la paglia scusate ok non mi ricordo più la nome della moda che mi diceva che roba ho sopra eh vabbè mi son auto capito io quindi hashtag auto capito io ok frena dietro a front vai un po' più avanti mi raccomando lasciate un laicuzzo che è molto importante non è nulla di complicato si tratta di mettere un like per supportare questa serie e questo canale da contenuti più belli e niente ragazzi io per il momento ho quasi finito il tempo quindi facciamo l'ultima per l'appunto l'ultima striscia qui eccola qui che la facciamo tutta andiamo dritti ehi perfetto dai che arriviamo fino in cima perfetto intanto vi lascio già ovviamente con la sigla spero che avete apprezzato questo contenuto se ne volete altri simili o un po' meno uguali fatemi sapere con un bel like allora quindi x ok iniziamo già a dispiegare la trebbia ok staccami questo perfetto retro front retromarcia ok accendiamo anche i giro pari che adesso andiamo su strada beh strada casa nostra alla fine però i giro pari li accendiamo anche se si vedono pochissimo su sta trebbia non so perchè vabbè dettagli forse perchè mi si sono sconsolate le grafiche non lo so devo vedere un po' più avanti eccolo qua q tasto q vai perfetto andiamo a scaricare direttamente qui dalle dalle galline il come si chiama il frumento alle volte con i termini ormai lo sapete che mi confondo quindi apri o tubu q va apri o tubu vai scarica tutto dalle galline mi sa che sono andato un po' troppo direttamente dal consumatore al produttore vai un po' più avanti no 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 mi sa che devo prenderla eccolo lì andiamo un po' più avanti vai poi io poi indietro ovviamente mi sto pre-registrando questo video ragazzi perchè sono un po' incasinato ragazzi scusate non so scusatemi ma ah perchè forse è pieno qua mi sa che non lo vuole tutto perchè forse è pieno quindi andiamo a scaricarlo direttamente nel siloes gira che ti rigira vai vai che la si va qua ho messo un altro capanno off camera ragazzi che un capanno in più mi può sempre andare bene per appunto per metterci la trebbia o qualcos'altro quindi mi va sempre bene non male come idea ok andiamo a scaricare qui vai perfetto ottimo si scarica tutto bene ragazzi stacchiamo e parcheggiamo insieme il mezzo poi ci salutiamo e vi do l'appuntamento come sempre a domani ovviamente ovviamente ragazzi mi raccomando campanelline tutte cose la sigla probabilmente già l'ho detto quindi non c'è bisogno che lo ridica perchè non mi fa impossibile perchè non mi fa ah eccolo lì non mi faceva di spiegare perchè non ho selezionato ovviamente il pipino davanti ok mi vado a parcheggiare qui ovviamente vediamo se ce la faccio ce la faccio a passare per di qua penso di si penso di si dai 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 che ce la facciamo parcheggio qua il suo carellino chi è? troverò un capanno ce lo pare il carellino ragazzi se almeno c'è dove metterlo vai staccami perfetto vado a parcheggiare e concludiamo ragazzi il gameplay quindi di nuovo con la sigla vai sigla 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 siglami tutta regia vediamo se ci entra lì dentro il tutto penso di si penso di si spero di si almeno perchè se no potrebbe essere un problema potrebbe essere un problema mi sta che non c'entra tutto vediamo spero di si ma ci entra dai ci entra ci entra vada che misura bene ragazzi dai mi fermo qui voi come sempre commentate iscrivetevi se non siete ancora iscritti vi lascio con la sigla e alla prossima ciao a tutti ciao ciao